Allora grazie a voi innanzitutto per l'occasione perché abbiamo davvero urgenza in tale complessità di costruire un comune ordine del discorso e proverò anch'io nel tempo a disposizione a tracciare alcune piste di ragionamento e di immaginazione di lavoro e mobilitazione politica e sindacale del prossimo futuro partendo proprio dal cambiamento radicale della compagine di governo che sono descritta benissimo da Sandro e dal campo di tensione politica che resta fondamentale in questo periodo al nostro avviso rappresentata dal recovery plan. È uno spazio di contesa politica che dal mio punto di vista dobbiamo riaffermare perché il tentativo è forte ed in questo va letta anche la nuova compagine di governo di sottrarre, di sottrazione e quindi di governance unilaterale delle risorse economiche disposte. Uno dei terreni di riappropriazione è sicuramente quello ecologista e quello femminista anche verso lo sciopero dell'8 marzo. A partire dalla risignificazione di alcune categorie che tolti i veli e l'operazione di Washington fanno esplicito riferimento a dottrine neoliberali, alle scienze del management delle risorse umane e anche alle indicazioni di ortoprassi sociali, di postura lavorista, neopaternalista e anche moralista, soprattutto nei confronti di soggetti individuati come maggiormente fragili sia sul mercato del lavoro che nella società. Ma su questo ci tornerò dopo. Categorie quindi, ma questo ovviamente ce lo aspettavamo, che non mettono minimamente a critica il modello di sviluppo né quello patriarcale. Pensiamo ad esempio a come viene affrontato il tema della più volte evocata e applaudita anche parità di genere, eludendo la violenza sistemica, la linea di frattura dell'appartenenza sociale, come se le donne fossero un universo indistinto o le responsabilità delle politiche pubbliche e del mercato del lavoro che è costruito anche giuridicamente come sessuato e razzializzato nel riprodurre il sistema delle diseguaglianze sociali. Ecco, rispetto al primo lockdown e alle fasi successive in cui abbiamo denunciato e ci siamo mobilitati contro l'insufficienza delle misure e nella tensione verso un regno di base incondizionato che resta per noi l'elemento cardine su cui far ruotare il discorso politico sulla fiscalità, sulla redistribuzione delle risorse, sulla democratizzazione del welfare e sul diritto a una vita degna e scelta al di fuori dei ricatti e della violenza, il piano è sicuramente mutato e quindi abbiamo la responsabilità, dovremmo essere in grado di leggere innanzitutto dentro le striature che è una cosa niente affatto scontata e provare a interpretare un cambio di paradigma che sta dentro un frame complessivo di riforme volto alla stabilizzazione del quadro politico, ivi compresa la riforma della pubblica amministrazione, quindi anche della forma Stato che è investita da processi di digitalizzazione che ancora mal digerisce e che va qualificata nel suo compito che non è solamente burocratico, ma anche dentro la cornice di politiche industriali di investimento che superando lo schema dell'assistenzialismo solidaristico, noi siamo abituati alle misure seppure insufficienti di contrasto alla povertà, di superamento del mismatch, per il sossegno a redditi meno solidi nel tamponare le emergenze, dovrebbero invece queste politiche di investimento generare occupazione e nuova impresa valorizzando e accelerando i processi di transizione ecologica, tecnologica e digitale come anche la richiesta dei white jobs, cioè di lavoro riproduttivo dovuta sia all'invecchiamento demografico sia all'erosione del welfare. Diciamo che già le linee guida del gruppo dei 30 che sono state fatte proprio da pienamente dall'Eurogruppo parlano molto chiaro, cioè si dovrà necessariamente fare i conti con l'esposizione e la disoccupazione e si avrà anche la necessità di spostare forza lavoro. Tramite due elementi che sono quelli classici, ovviamente la riattivazione del sistema della domanda nella conferma della centralità dell'impresa in senso un po' sciumpeteriano e anche in un'opera però sistematica come ricordava Sandro di produzione di confine tra sommersi e salvati, quindi investendo sulle aziende che sono risultate vitali e redditizie anche registrando i profitti durante questa crisi pandemica e lavorando contemporaneamente a un'uscita, come la chiamano, ordinata per quelle senza futuro e che non sono più convertibili con solide e trasparenti procedure di insolvenza. Le soggettività in carne e ossa, le lavoratrici, i lavoratori, i soggetti sociali, sono fuori campo assolutamente, ovvero interessano perché sono vulnerabili, perché sono portatrici di eventuali doti sotto forma di incentivi alle imprese, cioè sgravi per le assunzioni o pagamenti a risultato per i servizi erogati. Pensiamo per esempio alla partita del Reacteu che è di ponte tra vecchia e nuova programmazione comunitaria che insiste sulle assunzioni dei giovani under 36 e di donne, tanto più al sud, quindi nel mezzogiorno. Da una parte quindi abbiamo una riattivazione della domanda in senso selettivo, su questo hanno molto insistito, dall'altra la tutela dell'offerta però in una gradualità del principio di razionalità economica che vede in un primo momento per tamponare l'emergenza il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso anche l'irobbustimento degli ammortizzatori sociali. Si è parlato chiaramente di una riforma che probabilmente cadrà con lo sblocco dei licenziamenti che sarà ovviamente selettivo e non univoco, si è parlato di allargamento della platea, dei settori coperti, c'è una grande insistenza sul terziario, delle tipologie che entra a tale e anche delle entità del sostegno, ma se già pensiamo ad alcune misure sul piano europeo come Shure sono già in campo, si tratta di un prestito sotto garanzia di oltre 27 miliardi che poggia sul bilancio comunitario e finanzia il sostegno temporaneo per attenuare proprio i rischi di disoccupazione nell'emergenza. Però in un secondo momento, dopo aver tamponato l'emergenza attraverso appunto gli ammortizzatori, vi saranno azioni mirate, segmentate, legate a una forte condizionalità delle politiche attive, i vi comprese quelle formative su cui vi è una grande insistenza, diceva Sandro, quasi ossessiva in particolare sulla categoria di capitale umano. Che significa politiche formative in un mercato anche delle competenze che è estremamente nettamente polarizzato? Innanzitutto significa riqualificazione e aggiornamento delle competenze obsolete perché siano adatte, adattate ai nuovi fabbisogni rilevati dalle imprese, ma significa anche generazione di nuove competenze ed in questo risiede proprio anche la polarizzazione che andranno a ricoprire profili o set di attività iper specializzate e iper tecniche proprio in risposta alle tendenze in atto. Se pensiamo ai dati del World Economic Forum, già si sa che il fabbisogno per il 2018-2022 sarà quello proprio sull'economia circolare e sostenibile negli ambiti tecnologici dei servizi per le tecnologie mobili, dell'intelligenza artificiale, big data e la tecnologia cloud. Ma formazione significa anche valorizzazione delle competenze trasversali e anche su questo c'è una grande insistenza. Competenze che mettono a valore la vita, ricordiamolo, quelle capacità e quelle attitudini relazionali, linguistiche, emotive, cognitive che sono duttili e soprattutto utili al mercato. Ovviamente questa operazione di reskilling e upskilling è fatta in ottica di formazione continua. Pensiamo ad esempio al fondo nuove competenze che ha istituito presso Ampal di 730 milioni per l'annualità 2021 che trasforma la parte di riduzione oraria del lavoro in formazione continua con le aziende che ottengono un calo del costo del lavoro. Gli ottimidati ci dicono che si tratta di 8 milioni di ore richieste in formazione da aziende che sono collocate per lo più nel nord Italia, per i due terzi. Oppure pensiamo alle industry academy nella cooperazione formativa tra pubblico o privato che vede sempre ovviamente la centralità delle imprese e della formazione continua. Ma anche, e questo è un elemento molto interessante anche nell'ottica della valorizzazione del capitale umano, anche nel dialogo più stretto con il sistema di istruzione o formazione dove anche qui vi è un'insistenza sulla formazione tecnica superiore quindi sull'istituto degli ETS cui concorrono le imprese nel partenariato proprio per rimartare un outplacement privilegiato un'insistenza sull'elario STEM sul sistema duale, lo abbiamo sentito sul learning by doing in generale quindi imparare attraverso l'esperienza lavorativa anche attraverso il maggiore utilizzo dei contratti di apprendistato. Ecco, mi sembra che gli assi di analisi critica che sono strettamente interconnessi e che sottendono sul piano teorico all'intero impianto possono essere identificati proprio nella valorizzazione del capitale umano e nelle politiche di attivazione e di condizionalità che come diceva Tiziano in introduzione sono il vero campo di tensione dentro ovviamente la governance della povertà che è una grande opera di ortopedia sociale e di controllo sociale e morale in particolare nella produzione delle classi pericolose e dentro anche le trasformazioni del welfare introdotte dal New Public Management che hanno a che fare quindi con il ritracciamento delle misure di politica sociale in chiave neoliberale verso l'attivazione responsabile soggettiva e il controllo delle prestazioni esternalizzate e che hanno quindi a che fare con la forma Stato lo dicevo prima, con il lavoro amministrativo il ricorso ai saperi esperti la burocrazia come microcrisica del controllo pensiamo per esempio a che cosa accadrà con lo smart working che è uno strumento estremamente ambivalente di nuova estrazione di valore che ha già trasformato la prestazione lavorativa l'organizzazione del lavoro, la società, l'ambiente i flussi, le metropoli e ha influito questo l'abbiamo detto tante volte specialmente sul lavoro delle donne sarà ancora più semplice scaricare a questo punto sui fannulloni del pubblico impiego il fallimento delle politiche attive una retorica che sarà immediatamente inasprita con il bene amato nostro neoministro se non si pone seriamente il problema innanzitutto della sua governance, della qualità della domanda di lavoro ricordiamo che il 30% di quello attivato è lavoro povero e di un forte investimento in assunzioni e formazione qualificata degli operatori il ruolo delle politiche attive e la loro riformulazione cui lo ricordo è dedicato anche un capitolo della legge di bilancio per ben 500 milioni di euro è particolarmente sottolineato anche dalle parti sociali senza che si entri mai però nel merito della loro articolazione della loro fidelizzazione si parla della rintroduzione dell'assegno di ricollocazione per la Naspi nasce il programma GOL garanzia di occupabilità per i beneficiari di Naspi cassa integrazione e reddito di cittadinanza con percorsi di presa in carico profilazione, formazione che nella retorica della personalizzazione degli interventi questa è una parte particolarmente insidiosa lungi da restituire la dignità biografica e sociale e la capacità di scelta dei soggetti quello che si chiama l'empowerment appunto in realtà sono adottate prevalentemente per la misurazione anche dei parametri economici del sostegno dei percorsi attivati che sono attivati prevalentemente questo lo sappiamo dalle agenzie per il lavoro e enti formativi accreditati che ovviamente non si pongono il tema della qualità della formazione quindi stentano anche a stimolare l'aggiornamento e l'innovazione dei cataloghi formativi regionali mi permetto brevemente un affondo su questa cosa che insomma mi è molto cara perché dovrà diventare a mio avviso un piano di rivendicazione nostro articolato e molto qualificato le categorie che costituiscono i cardini del paradigma delle transizioni che appunto concerne l'intero corso di vita e l'intreccio che è niente affatto lineare tra formazioni e lavori andrebbero sottoposte dal nostro punto di vista ad ulteriore riflessione critica perché se ci concentriamo in particolare sulle nozioni di occupabilità attivazione capitale umane appunto ma anche di profiling come tecnica di personalizzazione mirata nella costruzione degli interventi tali costrutti rimandano alle caratteristiche che più in generale hanno assunto le misure di politica sociale quelle per il lavoro che configurano il modello di warfare adottato nel nostro paese e quindi gli elementi di condizionalità e di onere della prova chiamiamola così costituiscono in realtà da oltre un decennio i principi cardine fin anche delle politiche di nation building su questo abbiamo scritto molto che sul modello del nessun pasto è gratis desiderano e producono al tempo stesso cittadini che sono disponibili meritevoli, responsabili, flessibili non passivi quindi non divanisti permettetemi la battuta pensiamo ai piani di integrazione dei migranti dell'ultimo decennio sono convinta che vi sarà una riconfigurazione delle retoriche di stampo sovranista che rimangono adesso alle evidenze residuali addirittura stigmatizzate anche del discorso del neopresidente ma che secondo me si ripresenteranno tra non molto rispetto al tema del consenso oppure pensiamo alle misure per il potenziamento contenute anche nel recovery plan del servizio civile e dei lavori di pubblica utilità per il miglioramento della coesione sociale nel paese attraverso la valorizzazione degli apprendimenti non formali o della cittadinanza attiva cosa che sarebbe assolutamente incomiabile se non rispondesse alle logiche della disponibilità al lavoro gratuito e di costruzione di comunità che hanno rigidi confini nazionali e repubblicani dal punto di vista valoriale queste nozioni rappresentano esaurientemente la categoria lo diceva già prima di me Emanuele della crisi del modello cordista e anche la destrutturazione dei sistemi di produzione regolazione e protezione welfareistica e rimandano soprattutto a un progetto normativo di società che è fondato sull'individualizzazione dei rischi quindi con la conseguente colpevolizzazione di chi non ce la fa e quindi delle responsabilità che i soggetti produttivi devono assumere assecondando le richieste del mercato adattandosi alle richieste e ai modelli di organizzazione flessibile del lavoro questo punto insisto è particolarmente importante e insedioso perché se anche all'interno del principio della formazione continua degli apprendimenti ricorsivi e della certificazione delle capacità e delle competenze i lavoratori e le lavoratrici ma prima di loro gli e le studenti devono essere i promotori del proprio capitale umano esso diviene l'unico orizzonte di pensabilità dei soggetti e questa è forse la questione più seria da indagare si impone il capitale umano come discorso di razionalità utilitaristica che però in modo performativo ha presa sui soggetti informa le relazioni e costruisce un'idea di competenza nel lavoro e del lavoro che in realtà è un'economia della promessa è la formazione di precarietà e accettazione del lavoro che c'è che sappiamo essere povero sfruttato rimuovendo poi dalla scena gli umani che invece sono enfatizzati dentro la categoria le loro densità sociali i loro desideri e fornisce anche un formidabile sistema di legittimazione delle crescenti disparità mi avvio a conclusione io credo che in ragione di tutto ciò vi sia la necessità di ribaltare la narrazione e il presente recuperando proprio un ordine del discorso che abbia la capacità di immaginare e ripensare il lavoro che verrà i conflitti dentro il lavoro prendendo un po' seriamente il dibattito in campo che come dicevano anche prima di me Sandro Emanuele è estremamente polarizzato sull'articolazione del reddito versus salario ponendoci invece in modo analitico in un'epoca che sta mostrando brutalmente come il modello di sviluppo attuale sia in contraddizione con la riproduzione della vita stessa il tema della redistribuzione delle risorse della democratizzazione del welfare ma anche della risocializzazione del lavoro soprattutto di quello che retoricamente si vuole essenziale anch'esso come ricordava Sandro fortemente femminilizzato e anche razzializzato quindi la battaglia sul reddito incondizionato e oltre le logiche patriarcali familiste e razziste è la condizione perché la crisi sociale non possa essere utilizzata come elemento di ricatto e di pressione sui salari in un momento però in cui abbiamo sempre più chiaro che la povertà appartiene anche al lavoro abbiamo bisogno tuttavia di accentuare la dimensione ridistributiva ma di non rifunzionalizzarla in ottica neoliberale attraverso la rivendicazione di un dispositivo normativo di salario minimo legale e compenso minimo per gli autonomi di riduzione oraria che vada oltre anche i contratti collettivi nazionali cosa a cui sono non a caso fortemente ancorati i sindacati confederali che rischiano di non tutelare il multiverso della forza lavoro e che soprattutto renda appetibile e socializzabile il lavoro ovviamente vado veramente a concludere non voglio eludere la domanda di senso iniziale sul ruolo delle politiche attive sul diritto alla formazione e alla ricollocazione dei soggetti che non possono evidentemente essere risolvibili solamente attraverso schemi di reddito di base ma magari su questa cosa ci torno dopo se è possibile fare un altro breve giro di interventi c'è un ordine del discorso che sicuramente affascina anche gli animi più sensibili perché le retoriche sono molto insidiose come dicevo prima e ci parlano di personalizzazione formazione continua orientamente empowerment appunto e sembrano tendere alla restituzione della dignità e del riscatto sociale per i soggetti più vulnerabili invece sono categorie come dicevo molto pericolose e molto insidiose e solamente tenendo insieme il reddito e il salario la produzione e la riproduzione il lavoro e il welfare possiamo e abbiamo la possibilità di ripensare la regia di quelle stesse politiche che adesso sono tutte dentro la performance della produzione ma noi possiamo anche recuperare un dibattito in un periodo storico in cui vi è un massivo analfabetismo funzionale degli adulti e un significativo di vario digitale che è stato anche proprio negli anni in cui ero piccolina agli anni 80 e 90 ma che secondo me è ancora attualissimo mi vengono in mente le esperienze della Francia del Sud ma anche il dibattito più serio italiano sull'impresa sociale ci sono diversi modi di fare impresa diversi modi di pensare la formazione dei soggetti i saperi non immediatamente produttivi la valorizzazione delle risorse delle persone giocata anche sulle domande di cittadinanza sociale i processi di capacitazione per dire dalla SEM che sono individuali ma sono anche collettivi l'istituto delle 50 ore ma anche delle scuole popolari sono anche forme di organizzazione e consapevolezza sindacale insomma e quindi anche la costruzione di comunità di apprendimento che sono localmente situate certo è chiaro che ci dobbiamo porre il tema del radicale del potere anche del rovesciamento dei rapporti di forza per fare questo però è una sfida che ci possiamo assolutamente assumere e anche qui forse mettere al centro il comune e la cura condivisa nell'accezione che il movimento transfeminista le dà come orizzonte politico potrebbe essere una delle strade per noi percorribili grazie grazie